Mi piace come personaggio. La chiama Conte, che cosa vi dite? Ma vi chiedo se è contento di venire a novembre a testimoniare la bontà delle procedure eseguite durante il Conte 1 per gli sbarchi di immigrati. E che cosa si aspetta che le risponda? Che verrà e che confermerà quello che è notorio e che ha detto pubblicamente, cioè che in realtà Salvini non stava sequestrando nessuno, ma stava aspettando che il Presidente Conte terminasse la procedura per la ridistribuzione prima di fare sbarchare i migranti. Voi non l'avete chiamato Conte a testimoniare, perché avete chiamato solo la Lamorgese? Perché abbiamo un audio nel quale testualmente il Presidente Conte racconta la procedura dicendo che prima si ridistribuisce e poi si fanno gli sbarchi. Quindi i migranti erano a bordo della nave perché si stava aspettando che vi fosse la ridistribuzione. Abbiamo un audio, un audio vale più di mille testimonianze. Non avevamo nessun tipo di testimonianza da parte della Lamorgese che in questo momento sta facendo esattamente... E per quello avete chiamato lei. Senta, mi dice qual è stato il suo più grande successo.